più che l'invenzione è stata la intuizione del mio allenatore a san michele extra ha visto che avevo un piede buono delle possibilità e dopo allenamento tutti i giorni stavo lì una ora due anche calciare le posizioni finché mi è arrivata una cosa abbastanza naturale il liver è stato il massimo perché era una partita particolare l'abbiamo vinta il primo corso punizione e poi davanti a uno stadio pazzesco che sia stata la partita gestita dal pubblico in maniera cosa che non ho mai visto veramente